Buongiorno ragazzi, stamattina sono tornato a fare macro, speravo in una giornata migliore ma finora non ho avuto grandissima fortuna sembrerebbe che le cose stiano migliorando rispetto alla mattinata considerate che sono qui dall'alba, luce non ce n'è stata praticamente nulla, sono partito da casa con la nebbia fittissima e quindi non mi aspettavo chissà cosa per fare foto stamattina la cosa che mi interessava ovviamente era provare il mio ultimo acquisto se mi seguite su Instagram sapete che ho acquistato una lente vintage non vi ho detto quale, quindi se siete curiosi venite a scoprirlo oggi con me chi mi conosce bene sa che io amo la fotografia macro in generale ma in particolare negli ultimi anni mi sono dedicato a quella un po' più pittorica dove va dalla ricerca magari di sfondi particolari, di luci particolari stamattina purtroppo non c'è un granché di luce però come vi ho già accennato volevo testare la mia ottica vintage qui è già montata e come potete vedere questo è il risultato considerate che in questo momento non c'è granché di luce però si vede già un'anteprima di quello che riesce a fare adesso magari vi dico un po' di più su questo mio acquisto eccolo qui l'obiettivo che ho acquistato è stata diciamo un'asta abbastanza fortunata sono riuscito a prenderlo a un prezzo veramente ottimo si tratta del Meyer Gorlitz Primotar 135mm f3.5 è praticamente il fratello gemello del Trioplan 100 come sapete i Trioplan sono degli obiettivi particolari perché hanno uno sfogato a bolle non so se riuscite a vedere qui l'anteprima in questo momento di quello che sta inquadrando la luce diciamo stamattina come vi ho detto non è stata il massimo ma sono riuscito a fare qualche scatto interessante oggi avevo proprio voglia di provarlo questo obiettivo come vi dicevo ha praticamente le stesse caratteristiche del Trioplan 100 ed ho lo sfogato a bolle che a me piace tanto se mi seguite da tempo sapete che io ho anche realizzato delle versioni di obiettivo autocostruito su diciamo un modello del Trioplan 100 praticamente acquistando vecchi Trioplan fortemente danneggiati ma con le lenti di buona qualità realizzavo praticamente degli obiettivi cloni l'unica cosa che facevo era modificare un po' il barilotto utilizzando un elicoide particolare per permettermi poi di poter mettere a fuoco da pochi centimetri dalla lente frontale fino a infinito cosa che un obiettivo vintage originale come questo non riesce a fare infatti la distanza minima di messa a fuoco di un obiettivo come questo è di 1,60 m quindi capite bene che per fare diciamo un close up molto ravvicinati non è l'ideale comunque con un diciamo economicissimo anello come questo quindi un tubo di prolunga è possibile diminuire la distanza di messa a fuoco minima e quindi riuscire a fare anche qualche scatto più ravvicinato ma quello che interessava a me più che altro era per utilizzarlo con i fiori e le orchidee proprio per questo sfocato particolare a bolle ultimamente non sto realizzando più obiettivi autocostruiti perché i pezzi di ricambio cominciano ad essere molto rari e riuscire a trovare delle lenti di buona qualità praticamente è diventato molto costoso quindi realizzarli praticamente è quasi impossibile più una cosa che ho notato è che i prezzi stanno lievitando ulteriormente è che per acquistare un trioplan di condizioni abbastanza discrete ci sono prezzi assurdi online quindi ho evitato assolutamente il trioplan originale anche gli obiettivi ovviamente costruiti da me sono diventati praticamente irrealizzabili visto il costo anche dei pezzi e quindi diciamo ho lasciato perdere il mio obiettivo autocostruito su modello del trioplan purtroppo l'ho danneggiato durante un'uscita magro e quindi mi ritrovavo senza obiettivo diciamo trioplan con questo sfocato a bolle facendo delle ricerche su internet l'alternativa che si avvicinava tantissimo al trioplan originale era proprio questo modello quindi il primo tar 135 mm f3.5 lo sto provando stamattina anche se le condizioni di luce non sono state l'ideale e devo dire che sono piuttosto soddisfatto il mio esemplare non è in perfette condizioni estetiche ha qualche graffietto però l'ho preso veramente a un prezzo bassissimo tramite aste e quindi sono molto contento dell'acquisto fatto unica piccola pecca che si potrebbe un po' migliorare magari è riuscire a levare qualche granello di polvere che c'è all'interno vedrò di informarmi un po' come fare e se è possibile magari lo farò io stesso se non lo lascerò in queste condizioni perché comunque ho visto che non influisce sullo scatto sulla resa dello scatto anche questo ha uno sfocato come vi dicevo come il trioplancento vi faccio vedere magari mentre che parlo con voi qualche immagine scattata in mattinata e devo dire che sono veramente contento dell'acquisto fatto e specialmente per i soldi spesi visto che sono riuscito a prenderlo a circa 110 euro comprese le spese di spedizione quindi un ottimo prezzo detto questo vi volevo fare vedere qualche prova che ho fatto ovviamente si tratta di ottiche poco nitide come il trioplancento sono molto morbide ovviamente il suo caratteristico sfocato deriva anche da questo da lenti che non hanno grandi trattamenti e dal fatto che si tratta di obiettivi con poche lenti quindi tutto nasce proprio da questo da questo sistema di poche lenti e di basso trattamento che crea questi sfocati diciamo a bolle particolari c'è a chi piace c'è a chi non piace io direi che in alcune situazioni è veramente interessante anche perché crea uno scatto molto diverso dal solito io adesso vi vorrei fare vedere magari qualche scatto fatto in mattinata in particolare quello che sto realizzando in questo momento purtroppo il vento continua a aumentare quindi non so effettivamente se riuscirò a fare altri scatti però qualche prova continuo a farla anche perché voglio capire un po' il funzionamento di questa lente anche con il tubo di prolunga montato e vedere un po' cosa riesco a fare in modo ravvicinato ho montato il tubo di prolunga e mi sono avvicinato un po' di più a quel fiore come vedete sono riuscito a avere un ingrandimento decente posso ulteriormente avvicinarmi e mettere a fuoco ancora più vicino direi che non è l'ideale visto che comunque c'è tanto vento quindi non riuscirei comunque a scattare come vedete sto realizzando un video in modo da farvi vedere il bokeh come vedete i piccoli punti luce della brina della ruggiata mattutina si illuminano quando vengono colpiti dal sole e questo è quello che mi interessa maggiormente per avere scatti diciamo più creativi diversi dal solito sono molto contento tra le prove che sto facendo diciamo che a display mi sembra che negli scatti ravvicinati anche con tubo di prolunga l'ottica sia un po' più nidida rispetto a quando scatto soggetti molto grandi molto distanti senza il tubo di prolunga quindi forse a distanze brevi sembrerebbe che l'incisività, il dettaglio fino sia un po' migliore rispetto a quando si utilizza l'ottica liscia e il soggetto è molto distante quindi potrebbe essere una cosa positiva se lo confermerebbero le foto poi viste al computer proprio per utilizzarla per i close up e quindi le piccole orchidee nelle mattinate di brina sono contento speriamo bene beh ragazzi la mia mattinata macro finisce qui che poi macro non è proprio la definizione esatta è stato più una mattinata di test di questo obiettivo come avete visto ho avuto poco occasioni per via del tempo per sfruttare al massimo questo obiettivo che ha bisogno di due fattori assolutamente necessari che ci sia una certa umidità quindi della ruggiata e ci sia il sole io stamattina ho avuto difficoltà perché il sole non voleva uscire fuori dalle nuvole cosa che sta accadendo adesso ma la presenza del vento ha asciugato velocemente la brina del mattino e quindi diciamo che le condizioni ideali per fare questo genere di scatti sono venute a mancare comunque avete visto qualche clip qualche foto vi siete fatti un'idea sullo sfocato di questo obiettivo e quindi spero che con un commento mi dite la vostra se vi è piaciuto se lo trovate interessante come tipo di obiettivo per fare close up diciamo diversi dal solito se utilizzate anche voi obiettivi vintage fatemelo sapere sotto nei commenti ditemi che cosa utilizzate perché li avete scelti in modo da farmi un'idea e capire un po' quali sono i gusti vostri e quali sono i vintage più utilizzati da noi appassionati di natura tutto questo vi do anche un feedback positivo anche del mio treppiedi che oggi è alla seconda sua uscita ufficiale con me stamattina mi ha accompagnato per questa piccola passeggiata macro devo dire che mi ha soddisfatto tantissimo è veramente granitico quindi per le macro è veramente l'ideale ovviamente ha un certo costo e un certo peso però ve lo consiglio assolutamente lo vedrete sicuramente durante tutta la primavera accompagnarmi nelle mie uscite macro e niente io ho detto questo e vi saluto vi invito come sempre a lasciare un like per supportare il canale a iscrivervi se non l'avete già fatto attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video e se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram e Facebook dove metto tutte le mie foto naturalistiche ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao